Amici di TV7, canale 111, buongiorno da Everhan, dall'Armenia. Siamo arrivati ieri sera tardi, siamo qui nel luogo dove, secondo la parola di Dio, libro della Genesi, si fermò l'arca dell'Alleanza, quella barca grande di legno che era stata costruita da Noè ed è famosa l'Armenia non solo per questo, ma per la sua lunga storia cristiana. Siamo con l'Opera Siciliana Pellegrinaggi, c'è con noi la signora Maria Chiarenza, lo scopo di questa visita di lavoro. L'Opera Siciliana Pellegrinaggi, nata nel 2009, ha intessuto tutto un rapporto con l'Oriente per poter stabilire il parallelismo tra la nostra religione e le varie religioni che ci sono. Siamo stati i primi in Sicilia a fare la Siria, siamo stati i primi a fare la Turchia nel 90, siamo stati i primi a fare la Bulgaria. Quest'anno la new entry per quanto riguarda l'Opera Siciliana Pellegrinaggi è proprio l'Armenia, l'Armenia in circuito, in tour. Con noi c'è il nostro corrispondente che abbiamo qua in Armenia che ci darà tutti i servizi e ci darà il supporto logistico. Signora Cristina, volevo chiederle, ieri sera parlando con l'Armenia, gli armeni della diaspora, non ha accennato a Gerusalemme. A Gerusalemme, che io conosco molto bene, c'è un quartiere fortificato, il quartiere degli armeni, con una cattedrale dedicata a San Giacomo. Il rapporto tra gli armeni di Gerusalemme e la madre patria? Gli armeni a Gerusalemme ormai sono arrivati già nel IV secolo, i primi pellegrini e abbiamo, sia una nostra comunità lì, abbiamo rapporti molto stretti con gli armeni di Gerusalemme e loro hanno rapporti molto stretti con la chiesa locale, la nostra chiesa armena apostolica di Sant'Ecmiazin con il nostro cattolico, cioè il capo supremo della chiesa armena apostolica, hanno sempre avuto questo rapporto stretto, nonostante tutti i problemi, tutti i pericoli, insomma le guerre che abbiamo avuto, hanno cercato di rimanere sempre in contatto con il cattolico locale, il cattolico dell'Armenia. Grazie, durante questi giorni ci parlerà del genocidio. Mi pare che il Papa Giovanni Paolo II ha portato qui una reliquia di San Gregorio Armeno, quello da noi è famosissima la via San Gregorio Armeno per i presepi a Napoli e lei ricorda questa visita di Giovanni Paolo II? Però lui è stato qua nel 2001 quando noi abbiamo festeggiato 1700 anni del cristianesimo, per il popolo armenio è stato un grande evento vedere Giovanni Paolo II qua in Armenia dopo questo lungo periodo del comunismo. La maggioranza è ortodossa, cioè il cattolico non è legato alla chiesa di Roma? Beh, dire che non è legato... L'amicizia sì, ma l'ortodossia... Sì, abbiamo alcune differenze, ma non tante. Comunque se vogliamo mettere queste differenze insieme non possiamo riempire neanche un di tale. Quindi siamo abbastanza vicini. Grazie, è bello l'esempio del di tale per le differenze. Allora andiamo in giro e Leonardo sarà sempre accanto a lei, lei parlerà al micofrono e farà vedere ai nostri telespettatori e a coloro che hanno interesse per l'Armenia questa visita culturale, religiosa e turistica.